E così con Topolino 3576 con una meravigliosa copertina di Andrea Fracero chi riprende il logo con cui iniziavano i cartoni animati classici della serie Donald Duck ecco chi il panini comics festeggia i 90 anni di Paperino regalando per chi ovviamente voleva acquistarlo una meravigliosa statuina di Paperino impolstronato una delle più iconiche pose del personaggio Probabilmente Pepitalia è ancora più iconica quella sulla macca ma effettivamente rappresentare una macca non era esattamente così semplice mentre in effetti la statuina che è stata alla fine realizzata beh è decisamente molto più solida anche rispetto alla statuina dedicata ai 95 anni di Steve Bott William Devo effettivamente dire che mi è passato toccare appena il giornale per farlo finire in mano però a parte questo piccolo dettaglio che adesso ho messo proprio sopra alla poltrona il prodotto è decisamente molto buono e molto valido al prossimo episodio Arrivati adesso alla fine di questo unboxing non vi resta che invitarvi, iscrivervi al canale e timare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati Saluti a tutti!